Santa Giovanna d'Arco La pulzella di Orléans nacque a Dom Rémy in Lorena nel 1412. Era una contadina illetterata ma intelligente di carattere eccezionale. A 13 anni ebbe una visione premonitrice, nella quale, voci misteriose, la invitano a liberare la Francia dagli inglesi. Il Delfino di Francia, certo che fosse mandata da Dio, le affidò il comando delle truppe con le quali riconquistò gran parte della Francia. In coronato re, ma geloso della popolarità di Giovanna, Carlo VII stipulò una tregua con gli inglesi, che in battaglia arrestarono Giovanna. Accusata di essere una strega, venne condannata al rogo. Morì a Rouen il 30 maggio 1431. Nel 1456 la revisione del processo la vide assolta. Grazie a tutti.